15 agosto 2008, sono a Micene, un certo sito archeologico di Micene, e questo è l'advento di Arno, oggi è bussato un po' di Ponte del Magno, è di nuovo a Chirro. Adesso, qui a Dianucca, e a Ponte del Magno, passi, la vecchia città di Polinto, di Micene, Polinto è l'altra parte, un po' di gente che sta arrivando. Grazie a tutti.